Ave a tutti legionari, sono Alessio PCM e vi do il benvenuto e il bentornato sul mio canale e oggi continueremo la nostra campagna su Earth of Iron 4 con il nostro meraviglioso nuovo impero ottomano e devo dire che tutte queste località di combattimento mi hanno decisamente rotto le valle e dato che ho scoperto che si possono togliere mi sa che le andrò a togliere una a una nei momenti in cui non state guardando in ogni caso ragazzi come al solito vi ringrazio per i commenti e vi invito a continuare così come al solito inizio prima di tutto guardando un attimino i vostri commenti, dandogli un'occhiata e vedendo cosa consigliate di buono cosa più importante mi avete detto che per le bombe nucleari avremo bisogno degli strategic bomber e quindi onde utilizzarli, quando abbiamo finito l'artiglieria avanzata andremo a ricercare subito uno strategic bomber dato che al momento non ne abbiamo manco mezzo tra l'altro mi avete detto lasciate l'unità di guarnigione qua in Croazia perché hanno anche un po' rotto le valle sì effettivamente non avete per niente tutti i torti per quanto riguarda l'Africa se non sbaglio stavamo avanzando stiamo avanzando abbastanza lentamente ma ce la possiamo fare secondo me ce la possiamo fare però voi rioccupate il porto se no qua non ce la caviamo anzi dividetevi uno va a occupare il porto l'altro mi va a occupare questo perfetto facciamo ripartire oh che bello che bello che bello tra l'altro adesso che abbiamo il manpower siete tutti contenti dato che mi state dicendo ah adesso io cambia il modo di reclutamento fatto fatto ragazzi adesso siamo a posto mentre per quanto riguarda la Cina cosa mi avete detto mi avete detto che ho quasi in pugno 5 città importanti vero tra l'altro ragazzi ho anche rinfoltito le nostre flotte aeree i nostri closer support sono arrivati quasi a 200 ciascuno le nostre 4 flotte aeree di closer support dato che ne avevamo davvero in abbondanza tra l'altro qua si stanno schierando e fra un po' dovrebbero anche essere pronti vediamo plan preparation si più o meno si stanno preparando devo far partire l'offensiva anche se so che comunque sul fronte cinese sarà molto 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 tosta considerando anche che le divisioni si stanno spostando ah caspita questi qua devono aspettare che arrivino queste questi qua anche lui ha delle divisioni non in posizione anche lui le ha che arrivano da di qua e se effettivamente ragazzi mandargli rinforzi così è stata una mosso un po' forzata che rallenterà il nostro sforzo bellico mettiamola così in ogni caso cominciamo a ricercare lo strategic bomber e tra l'altro mi sembra che abbiamo anche il bonus alla ricerca vediamo un po' l'abbiamo sui fighter tactical bomber strategic bombing si vorrei questo qua il problema è che ci servono 150 punti al momento non li ho dato che sto bustando l'ideologia nel regno unito e in australia in australia dove tra l'altro dovremmo anche essere messi bene infatti ragazzi abbiamo un bel 50% che non è davvero male operazione europa feraint com'è che erano divisi i nostri uomini guarnigione guarnigione e guarnigione la fantasia bellissimo va bene però penso che li lasceremo così facciamogli riconquistare il sud Italia per l'ennesima volta ragazzi come se non l'avessimo mai fatto vai partite tra l'altro se sembra che ce la stiano facendo qua il problema è che gli alleati stanno facendo un nuovo sbarco in Normandia una bella rottura di balle e ok siamo riusciti nel nostro piano qua in Africa e quindi siamo riusciti ad occupare questi territori qua no togli la linea di confine così falla qui e continuate ad avanzare ok continuate ad avanzare come se non ci fosse un domani ragazzi dovete arrivare a occupare tutti i territori francesi così magari la Francia capitola anche che sarebbe l'ora e poi punteremo ai territori del Belgio naturalmente ai territori inglesi uno a uno ragazzi li facciamo capitolare tutti sarebbe molto carino anche se il Portogallo si unisse all'asse ma la vedo tosta anche perché sono al momento per lo più non allineati e anche in piccola parte comunissima penso che ormai i comunisti abbiano anche un po' perso il loro fascino mettiamolo così per tutti i governi vediamo se riusciamo a far partire l'operazione a sud se riusciamo ad avere un po' di successo insomma insomma ragazzi i cinesi sono un bello osso duro a quanto pare vediamo se riesco a convogliare un po' gli attacchi no niente 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 ok ok stoppati stoppati ragazza stoppati stoppati perché vedo che qua facciamo una fatica boia se vi faccio fare qualcosa ve lo faccio fare a mano al limite tipo prendi quella città che può essere utile e ci comportiamo in questo modo ragazzi perché qua in cina effettivamente è davvero tosta avrei dovuto avere uno strategic bomber ma sfortunatamente non ce l'ho e questo comunque si sta facendo sentire guarnigione carri armati ok stavamo facendo solo questo siamo messi anche abbastanza bene con gli upgrade infatti abbiamo un bel po' di unità di motorizzata ottimo quindi posso togliere questo cosetto qua che mi stanca un po' sul culo poi come siamo messi con l'equipaggiamento di supporto siamo messi bene quindi posso diminuire la produzione anche di questo al frattempo faccio andare il tempo però ok magari ho anche esagerato un pochino dai vediamo se così riesce a reggere o se si distacca troppo per quanto riguarda l'artiglieria invece anche qua siamo messi stra bene e non penso che ne stavamo neanche facendo in più quindi possiamo diminuirla facciamo da qui ok equipaggiamento di franteria siamo messi bene fighter discretamente anche se potremmo andare meglio ok facciamo ancora un po' light tank siamo messi benissimo forse abbiamo bisogno di modern tank più che altro ok vediamo di diminuire la produzione di questi e aumentiamo quella di modern tank perfetto eri da trasporto non ce ne servono così tanti possiamo sostituire con modern tank questi possiamo diminuire le loro volte mettiamo un modern tank fantasia di montagna perfetto e questo qua lo mettiamo quindi su 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 sulle armi che non fa mai male averne un po' di più poi dato che possiamo ricercare qualcos'altro i vari fighter non mi interessano al momento piuttosto farei miseria la Finlandia ha capitolato un'altra volta dannazione ok dottrina aerea la sto già facendo ma avete detto di fare le dottrine di terra per avere altre unità reclutabili ma vi ho già detto che al momento non penso che sia indispensabile quindi piuttosto mi dedico a qualcos'altro per quanto riguarda le basi aeree io sono più che altro su questa che migliora l'organizzazione dei submarine dei cruiser leggeri e dei cruiser pesanti quindi proviamo piuttosto a fare una dottrina navale che non ne abbiamo ancora fatta neanche una e direi che potrebbe anche essere giunto il momento proviamo ad avanzare con questi vediamo se riusciamo a muoversi verso Chongqing o come diavolo si chiama voi state avanzando ragazzuoli? si qua state un po' facendo le finte confessatelo eh si ok facciamo che vi faccio muovere io di persona perché sennò voi fate finta di niente e non andate ok spero tra l'altro che i nostri alleati mi coprono un pochino mentre arrivo là sotto ma poi se riesco a occupare quel territorio teoricamente la Francia s'arrende e l'abbiamo completamente fuori dalla guerra sarebbe davvero una pacchia ragazzi una pacchia davvero allucinante poi abbiamo ancora le truppe di guarnigione qua e gli alleati non hanno ancora fatto niente questo mi fa abbastanza piacere e sarei quindi quasi tentato di spostare queste truppe per utilizzarle contro queste però davvero ragazzi ho paura di rischiare troppo facendolo ed è proprio per quello che ho deciso di non farlo subito tra l'altro qua mamma mia gli alleati stanno spingendo un sacco davvero vabbè noi spingiamo a nostra volta qua cos'è che abbiamo? delle fabbriche civili non utilizzate molto bene e allora cosa ci facciamo? ci facciamo magari dei porti che dite? o se no miglioriamo un po' le infrastrutture perché in alcune parti dell'impero mamma mia tipo qua sul confine migliorarlo un pochino direi che non è una brutta idea perfetto stiamo per avere anche la seconda bomba nucleare e non sarà per niente una brutta cosa uh è morto uno dei nostri ace pilot quindi uno dei nostri piloti migliori vabbè ragazzi adesso vi schippo un pochino fino a che non vediamo un po' di sviluppi ok ragazzi ho dato un po' di comandi a mano qua sul fronte cinese ed è davvero una cosa lunga poi tra l'altro il gioco adesso non so perché sta anche cominciando a scattare un pochino probabilmente perché ho lasciato le impostazioni grafiche leggermente più alte del solito intendo quelle delle registrazioni non quelle del gioco di per sé e quindi sta andando un po' a scatti e un po' lentamente abbastanza una rottura di balle però ce la possiamo cavare anche così il fatto è che ragazzi mamma mia tempo che ci facciamo lo strategic bomber passa un'eternità altri 90 giorni sono 3 mesi e saranno lunghi altri 3 mesi da fare così non per altro ma aia anche perché siamo impegnati in fronti davvero tosti anche perché qua in africa dove sto provando a scendere ci stanno mettendo un'ira di dio ragazzi per spostarsi davvero si stanno spostando alla velocità delle lumache anche perché hanno pochi rifornimenti sfortunatamente quindi poveri cristi ci si potrebbe aspettare anche da loro là i rifornimenti sono quel che sono scusate se avete sentito un colpo ho spattuto io leggermente sulla sulla cuffia ma dannazione mai visti combattimenti così serrati comunque i cinesi ragazzi resistono come dei dannati è allucinante meno male che i tedeschi un po' li stanno impegnando qua sopra ma i cinesi porca miseria vediamo un attimo quante troppe hanno secondo le stime tra le 339 e le 483 porca miseria davvero allucinante e la cosa divertente è che alcuni attacchi li stiamo facendo noi tipo questo qua quando impegno tutte le truppe va bene solo che poi a un certo punto decide di toglierne una parte e allora l'attacco comincia ad andare malissimo uno dice ma allora sei stupido perché attacchi da solo se ti ho detto di attaccare con qualcun altro però vabbè ragazzi è la logica di questo gioco ogni tanto perché fare quello che Alessio dice quando possiamo fare le stronzate che vogliamo giusto giusto non fa una piega non farebbe una piega se almeno quello che facessero fosse sensato ma non è così perlomeno la maggior parte delle volte non lo è in ogni caso diamo questo qua questa missione qui questa unità inglese non riescono non riescono a sconfiggerla per quanto ci stiano provando non ce la stanno facendo voi continuate ad avanzare qui ok perfetto il Giappone non ci spedisce più qualcosa tanto per cambiare in fondo continua a spedirci roba e poi non ce la spedisce più quindi una bella rottura di balle ok e qua c'è un casino di gente come al solito come al solito vabbè ragazzi vediamo nuovamente come si sviluppa le cose ah tra l'altro dimentichavo uno mi aveva detto ma non puoi fare niente per aumentare l'unità nazionale che io sappia no e l'ho persa perché ho sbagliato delle cose a inizio partito ovvero facevo le claim e poi non riuscivo a soddisfarne le richieste nel tempo prestabilitivo e quindi ricevevo come malus una perdita di unità nazionale se non ricordo se non ricordo male e effettivamente mi ha segnato un po' anche perché diminuirà decisamente la nostra resistenza all'acquitolazione ed è una bella rottura di balle tra l'altro molto bello come la Svezia sta migrando in Finlandia davvero divertente come cosa molto ironica ragazzi sembrava impossibile eppure ce l'ho fatta a prendere questo dannato sputo di terreno schifoso che almeno ci permette di andare dall'altra parte del fiume finalmente era da vent'anni davvero che stavo cercando di prendere quel punto e alla buon'ora alla buon'ora però davvero perché avevo bisogno di prendere quel punto in quanto è decisamente un punto strategico da avere sotto controllo se si vuole riuscire a fare un'offensiva verso le città che si trovano dall'altra parte tra l'altro io periodicamente riprovo ad attaccare qua ma senza successo perché miracolosamente gli inglesi riescono a resistere ma vabbè sappiamo che i miracoli ci sono in questo gioco e le cose strane e in ogni caso di qua come stanno andando oh mio dio sono riusciti a muoversi di uno sputo molto molto carino bello bello decisamente interessante poi il fatto che stiano affrontando le truppe belghe lo sbarco in normandia lo stanno riuscendo a respingere a contenere meno male ci mancherebbe altro sicuramente e ora che ci penso abbiamo i paracadutisti adesso anzi fra poco li avremo di livello 3 quindi potrò cominciare a reclutarli e a fare gli sbarchi vero non ci avevo pensato effettivamente ragazzi allora unità di guarnigioni ricordo che mi servirebbero ancora soprattutto sul fronte indiano ok le stavo reclutando perché mi servono ancora un po' sparse per l'impero in compenso però posso cominciare anche a creare dei paracadutisti nello specifico vorrei migliorare un po' i paracadutisti perché gli voglio mettere oh mio dio una furbicina nella stanza e vabbè che si inculi non so se avete presente che insetto è abbastanza bruttino mi dispiace ciccio ma è vero sei bruttino allora dicevo gli mettiamo raccoon compagnia perfetto field hospital e ok ai paracadutisti direi che gli mettiamo questo magari anche gli ingegneri volendo aggiungere qualcosa oddio se non mai le altre cose li rallentano però ok li facciamo un po' più grandi se facciamo così sono reggimenti da 7800 va bene 7800 e ok perfetto e comincerei ad arruolarne un po' allora 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 li voglio innanzitutto qui quante unità ne prendiamo 6 facciamo sapete che vi dico io sarei quasi tentato di prenderle anche green per non aspettare che me le reclutino completamente anche perché ci vogliono 6 mesi e se le prendo al 20% per quanto green almeno magari riesco ad utilizzarle subito quindi facciamo che ne facciamo facciamo che ne facciamo facciamo che ne addestriamo alla bene meglio 10 6 7 8 9 10 e gli facciamo fare l'esperienza sul campo perché è l'unica se no non ce la cadiamo più e allora spostiamo quest'aere da trasporto qua e poi avremo bisogno di aerei qui che andiamo a spostare da qua che mi sono anche un po' rotto il cavolo di tenerli qui questi aerei li andiamo a spostare qua e li assegniamo qua perfetto sperando che riescano a contenere quel pezzo di mare se non ci riuscite mamma mia vuol dire che siete delle mezze seghe meritate di schiattare come degli schifosi per quanto riguarda la produzione tra l'altro vedo che closer support come al solito eccediamo ma con i fighter siamo messi maluccio bene 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 allora dato che abbondiamo di artiglieria abbondiamo di pezzi di supporto e abbondiamo anche di motorizzata direi che possiamo fare ancora un pochino di allora innanzitutto altre da trasporto che possono sempre servire e poi cominciamo anche a fare no dove 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 closer support no fighter dato che abbiamo pochi fighter me ne fai ancora qualcuno ok 5 fabbriche libere perfetto e fra pochissimo potremo finalmente cominciare a fare oddio pochissimo mi sembrava che il tempo fosse passato un po' più velocemente ve l'ho detto questa campagna cioè questa campagna in questo video sta andando un po' piano il tempo proprio per quel problema che ho riscontrato ok ragazzi ce la stiamo facendo sul fronte cinese al momento ma c'è questo evento che sembra pericoloso per la prima volta e fortunatamente l'ultima nella storia una bomba nucleare è stata detonata a Careta come parte del conflitto internazionale la distruzione in precedente è stata una dichiarazione del devastante potere di questa nuova arma che è tenuta non solo per quello che può fare i suoi bersagli ma anche per le implicazioni che può avere per la per l'umanità stessa il mondo trattiene il suo respiro aspettando cosa verrà dopo forse era questo la Grecia ad arrendersi per evitare ulteriore terrore o li determinerà solamente a combattere ancora più con più durezza per resistere a queste a tutto ciò ecco tra l'altro tra l'altro è successo tutto ciò sotto il mio naso io manco me ne sono accorto ma dove dove esattamente ragazzi ma è stata la Germania nel caso se l'ha utilizzata perché a me io perlomeno io non ho fatto niente quindi se non è stata la Germania anche perché non penso che gli alleati abbiano bombardato i loro stessi uomini oh mio dio cosa è successo qua ci sono delle sacche si qua Nord non è che stia andando benissimo effettivamente ok mentre voi andate qua direi che voi potete anche andare un attimo qua a risolvere la cosa su quel confine là perché se no non ce la capiamo più tra l'altro mi deve essere entrata una zanzara in stanza perché continuo a sentire punture da tutte le parti una cosa allucinante aia male 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 resistete ragazzi resistete ho queste offensive difficilissime sapete che vi dico però mi sono stufato del fatto che vada così lentamente quindi preferisco interrompere il video qua anche se dura un po' meno e continuare abbassando questa diavolo di impostazione nel sistema di registrazione la prossima volta spero comunque che il video vi sia piaciuto se vi è piaciuto mi raccomando lasciate qua sotto un bel mi piace e commentate perché i vostri commenti sono sempre importantissimi e sempre molto utili a tutti i regionali ci vediamo nel prossimo episodio di questa campagna su Earth of Iron 4 con il nuovo impero ottomano e in un mondo in cui le bombe nucleari potrebbero essere considerate un'arma legittima da utilizzare e in un mondo